Ciao a tutti per la gente, questo è Kappa, ancora qui con voi, yeah, oggi continuiamo alla nostra fantastica avventura nel mondo di Fallout New Vegas, abbiamo appena ucciso i bagagli, i gechi, e ho visto che sono i fin di vita, direi di tornare al campo, vedete la zia, mappa, mappa globale, mappa globale, oddio, con troppo devo farlo, ah già è vero che devo aiutare i bc, aiutare o uccidere adesso, no vabbè dai aiuterò, visto che il dottor Michel è molto importante in quest'avventura, mi provo di una scella, oh ma fuck, ok, mi ha dato un messaggio, ah posso andare a parlare con, 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 no, spurtati, perché c'è un armo fuoco, vai via, con, o perché di notte devo andare in giro io, ah, è qua comunque, sta dormendo, perfetto, rubiamogli tutto, questa qua gliela rubiamo, abbiamo qui denaro glielo rubiamo, stupida gente che dorme, qualcos'altro da rubare, non so, chiave inglese, non me ne faccio niente, qui non c'è niente, no, questo cos'è, batteria fissiosa, birra, mais, no ok, non me ne sape più, niente, quindi tu svegliati, adesso che ti ho svaliggiato, svegliati, stai cercando dei rifornimenti da comprare, si, io ho già comprati, mi sembra un problema di provare il padre gaga, allora fami prendere il comadre stecchio e fare un danno sicuramente bene, hai dimostrato la tua tesi, posso fornire alla gente delle armature in pelle e munizioni extra, perfetto, bene, farò la guardia al magazzino, mette, sì, va bene, non so, mi vedo cos'è da bene, vediamo se, oh, c'è una, mi ha dato la motore in pelle, sì, sono troppo povera, adesso, una birra te la posso da carne di gelco, cibo spazzatura con la vorigiosa coltello, no, un sacco di male coltello, un cucchiello di metalli, no, cileno, granata, no, no, ma vuole macchine fotografiche, staccavo due macchine fotografiche, munizioni, no, pelle di gelco, uccelli, energia esaurita, no, perché tanto non vale niente, pinoli, pistola laser, no, ottami di ferro, sacca di sanguino, stufato il scogliattolo, mamma mia, una tuta, vabbè, la tengo, tanto perché dà più due eloquenza, uovo di ceco, vestito da vagabona d'azzaro contaminata, vino e basta, ok, posso dammi, no, vediamo se c'è qualcosa qui, non mi sembra, munizioni, non hai munizioni, ah, ok, insomma non l'avesse munizioni, no, vabbè, ok, basta, 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 accetta, esci, ciao, ciao, basta, basta, esci, uff, che c'è la ta, addio, addio, ciao, ragazzi, ok, basta, messaggi, allora dove è da Mitchell, dove Mitchell, 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 è là, sapete perché non sto benissimo? oddio, parche lagga, vabbè, apri, sto male, dottore, mi curi, mi curi a gratis, dove andate, eccolo, tu, cuore, piacere di rivederti, si, bla bla bla, ho delle ferite, 50 tappi, mmm, basta, bravo, mi potrò andare in un letto qualsiasi ma, vabbè, per 50 tappi, ah, il mio cuore andando a letto, ah, simpatico, allora, poi ti rubo una borsa medica, dai, svegliati, minchione, come te la stai cavando? da ufo, sembra che ovunque vada sia sempre, ah, non sono un granché in combattimento, con questa gamba, non ho molto, ma sarà più utile là fuori che tu, si, infatti, dammi tutto quello che hai, perfetto, parlami di te, non ci, non me ne farei un cazzo di te, però me puoi anche morire, ottimo, no, queste varie, quella è questa, dimmi che riesco a prepararla, si, non mettereteci 9 mm, ottimo, 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 ah, chi ci manca, si, devo aumentare un po' di livello, perché se no, non posso, perché ce ne sono un 3, ah, beh, il tipo di video, ok, ok, uno è Easy Pit e l'altro è la tipo a cui mi serve più cause, true, ah, c'è l'armatura in pelle, ah, beh, poi devo mettermi l'armatura in pelle, basta, messaggi, ci posso cadere, tutti adesso arrivano, nessuno, nessuno mi ha tagliato, oggi, mille messaggi mentre registro, vabbè, comunque, veste, ah, matura in pelle, ok, basta, anzi, armi, pistola, pistola, mitraiatrice, vabbè, per adesso tagliare la pistola, si, cosa da riparare, no, ok, dove vado adesso, se vogliamo salire un po' di livello, prima di uccidere i powder gang, andiamo alla mappa un po', a parte che non mi mancherà molto il salire di livello, quanto c'ho di eloquenza 14, bastano 10 gradi, quindi sì, facciamo un livello, andiamo alla mappa, cimiterci non già stato, no, è il globale, vabbè, andiamo avanti con l'altra missione intanto, ok, e ce l'andare giù di là, diciamo che partiamo da qua, intanto ammazzando qualcuno dovremmo riuscire a salire di livello abbastanza velocemente, e poi ammazzare tutti i powder gang, soprattutto Joe Cobb, o Joe Cool, non mi ricordo come si chiama, soprattutto il parcheggio a due frecce, parcheggio a una freccia, dove è la missione, 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 che devo immaginare, parla con Vittor, non voglio parlare di Vittor con il mio strato, va dicendo la dopo, perfetto andiamo di là, vediamo se c'è qualcuno, la pistola ce l'ho, ok ce l'ho, metti la via che ti rallenti e basta, ok dei gechi, anzi un geco, l'altro è morto, ti è, si, better headshot, si con la mod better headshot se spari in testa quasi tutti muoiono al primo colpo, la, ovviamente quasi tutti perché, anche io ovviamente, uh c'è un po' del gang, cazzo mi ha visto, come è andato, vabbè usiamo questo, il 100% eh, vedi che se spari in testa muovo, perché se spari in testa muovo, perché se spari in testa muovo, 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 speriamo che il torso, speriamo di prenderlo almeno una volta, mamma mia, sembrava tipo, eh, nazi zombie, ma sicuro ti dico che ti prendo tutto facendo prima, manca a te, uh dinamite guarda, leggi nota, una nota era accettata molto e porto io la forbar chi ce la farei, non è importante, un letto giusto per, zeta per dormire, perché mi so zeta per dormire, che poi non funziona, mi schiaccio, fa culo, prendiamo tutte le munizioni possibili e immaginabili, prendi poi le cose qui ma si prende tutto ok se non mi sbaglio qui c'erano anche delle mini per terra però forse questa musica aspetta la parte di poter mettere la radio ma vi tengo compagnia io con la mia voce ok qui no qui no andiamo un attimo la c'è nessun altro da ammazzare vedo dei geni fa culo stupida arma di merda che non tira fino in fondo se si è pieno c'è te aspetta aspetta ciao fuck yeah dai che salgo di livello oh c'è un altro oh cagata chi è ok ok però se andiamo avanti a jiki non è che andiamo molto avanti mmm a parte che mi manca pochissimo per salire di livello oddio 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 ma vaffanculo vabbè questa qua non la prenderò mai se non uso questa cazio eh eh uccidiamo le mosche guardo senza nere riesci a prendere una mosca sparando cioè mamma mia oh c'è un di piccolà ma davvero ma davvero un gecko un gecko un gecko fermati un gecko stupido un gecko si ecco però fermati a parlare con la mosca il canto io ti spari in testa ok forse in testa no ah no cambio il bersaglio ti riesco a prenderti si sto cazzo facciamo così ciao gecko ma che 89% devo venire di fiamma si è la potenza tu sputi da mosche colpo le taglie su mosca mutante oddio ok ok magari sono salito di livello dai salmi salire di livello voglio andare a ammazzare tutti vabbè non c'è più nessuno da uccidere andiamo a vedere la c'è la lrnmc si oddio sei che sta guardate che bel cielo il cielo si si ehi dove cazzo credi di andare non voglio entrare a prima scommetti grazie per l'avvertimento attenzione si si lo so dove salta 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 io ho fatto il capitano delle forze della nrnccpp che è qui dentro che culo tu come il luogo te lo so chi sei che ci fai qui si bla bla ehm puoi cercare la tua missione la missione non è un problema sto cercando di ottenere rinforzi qualche pistola ok si non me lo fai il cazzo ah tutto qui vabbè e perchè sono venuto qua io notta non so come faremo a gestire tutti questi condannati scusi a caldo guarda ok ehm 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 comunque parliamo con questo qua cosa mi dice il pattugliamento del mojave ti fa quasi sperare in un inverno nucleare olè disattiviamo un po' di mine vediamoci sti punti di sperienza che magari saliamo di livello soltanto con le mine oh si siamo saliti di livello perfetto fammi salire si ok 360 ok quindi saliamo di eloquenza fino a 25 e poi gli ultimi 3 li mettiamo 2 in scienza e un punto in furtivo così arriviamo a 20 fatto olè ok quindi adesso torniamo l'ho scoperto qui l'ho qua si ok torniamo qui mi fotte tutta la testa siccome c'ha le pulci in testa mamma mia ok 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 quindi andiamo a convincere la nostra amica mettiamoci la missione sennò qua se questa dove si trova oddio c'è un piccolo non è buggato guardatelo che bello andiamo dal bigono si è sbagato si beh più o meno cosa sta facendo povero big order vabbè mmm c'è sempre qualcosa nella questione apposta non è veramente interessante qui ci siamo la nostra amica ma no non vuoi farlo con gli spirit un po' magari c'è qualcosa di interessante dai oh ma tipo qui dentro vuoto ottimo mmm boffaro faccio da dare compress no vabbè prendiamole c'è anche i pionbini vabbè da rivendere fa sempre tutto comodo va bene quindi non devo andare dai speed ma da quell'altra che sa boh sarà nel saluto ancora no e lì no quella no sarà questa qua lì c'è entrato di qua che immagino sia la casa di prima eh che cazzo esposta stupida venire immagino che sia qui uh un'altra cassetta è trapposta ma non la fa ancora ma che si chiama la chiave poi la cioè chiave inglese perché chiave basta poi non è neanche una chiave inglese oddio ma devo neanche andare qui io così si 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 portati ti fa la conta hai siete se vuoi se vuoi ma che siete pensavo di fregarmene a dire il vero ma mi piace eh ti piace eh fammi scambiare due parole con un paio di personaggi si tutti hanno una pistola l'ho già fatto vai tranquilla fammi vedere cosa c'è da me vabbè ma potrei venire tutti questi soldi qui che tanto adesso non faccio niente un'acqua sporca una bottiglia guata di salsa pavilla un buffo una chiave dell'auto bellico definitivamente teniamocela mmm beh anche un manganello te lo posso dare tanto non me ne faccio tutte le mine che vuoi una cosa aiutata no no sai mina frammentazione e basta i bambini va bene quante pistole da 9 mm ok basta 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 esci se ti serve qualcos'altro fammi un fischio no ok quindi usciamo di qui dov'è l'uscita uscita oh ecco quindi andiamo a parlare con il nostro amico la sopra perchè easypeed non riusciva mai a convincerlo perchè ci vogliono esplosivi almeno a 25 e non ce l'ho dov'è salire da un altro livello ma fa lo stesso ci sto mettendo anche troppo ci sto mettendo anche troppo oh questa la prendo anche la città anche poca si fa si se la prendo no non andiamo a andare qua andiamo a andare di la andiamo a parlare con il nostro amico non mi ricordo come si chiama ok questo qua è vuoto ok questo qua è vuoto ah Ringo People è vero quindi che succede sani è con noi ok quindi adesso basterà dire che siamo pronti per uccidere tutti non ho 25 non ho 25 ecco cosa c'è una luca cola e non steampax robin qui Sanse Sarsaparilla la Sanse Sarsaparilla è tipo la coca cola cioè si trova dappertutto oh buonizio no mi vedi beh vabbè non voglio farmi vedere perchè dopo ero per le palle dopo quando la faccio uscire li rubo tutto c'è qualcosa altro da prendere non mi sembra una tramentina se volete no cosa ho preso una lattina buona comunque bella gente questo altro episodio finisce qui nel prossimo episodio cosa c'ho qua? sono un crattato nel prossimo episodio distruggeremo i Powder Ganger che hanno invaso Gutsprings quindi bella gente se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace altrimenti lasciate un mi piace lo stesso ci vediamo nel prossimo gameplay ciao